Abbiamo una miniera di dati a disposizione, questi dati però devono essere elaborati e analizzati a livello statistico in un modo adeguato. Quindi per questo tipo di lavoro ci siamo appoggiati a un gruppo di ricerca sempre dell'Università di Torino, in particolare alla professoressa Erika Liberto del Dipartimento di Scienze e Tecnologie del Farmaco. I dati che vi presenterò derivano da un dataset abbastanza corposo e sono stati analizzati attraverso un software dedicato per l'analisi statistica. Come ben detto il database che abbiamo sottoposto all'analisi statistica è stato molto importante, racchiudeva circa 2 milioni di dati e racchiudeva 2 milioni di dati raccolti in Piemonte, e in 9 realtà piemontesi che coprono circa più di 500 conferenti distribuiti sull'intera regione. Possiamo dire che comunque la provincia di Cuneo e la provincia di Torino hanno il peso maggiore dovuto anche alla loro popolazione bovina, però abbiamo preso anche in esame le province minori. Una piccola correzione, il database che poi vi presenterò è stato uniformato a 5 anni, quindi dal 2016 all'ottobre 2020, perché era stato sottomesso all'elaborazione a fine anno 2020, e non dal 2015 perché volevamo avere tutti i caseifici con gli stessi conferenti dall'inizio alla fine dell'analisi statistica del database. Cos'è stato sottoposto? È stata sottoposta tutta l'analisi qualitativa del latte, quindi quella che viene fatta in laboratorio, a partire dall'analisi chimica, quindi la compositiva di grasso, proteine e lattosio, caseina, orea, la crioscopia e le cellule somatiche e la carica batterica. Nota di dover da fare, durante la presentazione i dati della crioscopia saranno presentati in valore assoluto, quindi si presenterà il meno 520 che normalmente viene riportato sui referti come un valore positivo, 520. In questo caso verrà tenuta questa conformità di misura per tutta la presentazione. Andiamo subito al punto che è il nocciolo della presentazione. Come è variato in Piemonte il punto di congelamento? Questo è il dato derivante da tutte le crioscopie AR, mediate per caseificio per anno, dal 2016 al 2020. Bisogna fare appunto che nel 2020 mancano due mesi importanti per la risalita, in questo caso, del punto crioscopico, che sono novembre e dicembre. Normalmente nel periodo invernale il punto crioscopico si sposta verso il 530 rispetto al 520, come ha anche illustrato precedentemente il dottor Comino durante la sua spiegazione. Comunque dal grafico esposto possiamo vedere che a livello regionale l'andamento di crioscopia ha subito un decremento, specialmente passando dal 2017 al 2020. Andando un pochettino di più nel dettaglio, abbiamo riportato sempre l'andamento annuale del valore di crioscopia, del punto di congelamento del latte, ma suddiviso per i caseifici che entravano dentro il database. Come si può vedere, a seconda dei caseifici il punto di congelamento medio è variato, quindi all'interno del comparto piemontese c'è una differenzazione dei punti di congelamento per quanto riguarda i vari lati, quindi che potrebbero essere dovuti alla stalla, alle diverse tipologie di stalla e alla diversa collocazione. Quello che accomuna più o meno tutti i caseifici, quindi il latte conferito a questi caseifici, è l'andamento decrescente negli ultimi cinque anni. Abbiamo detto, cioè ha detto e ha spiegato molto bene il dottor Comino, che il parametro crioscopia o punto di congelamento è influenzato da molti parametri presenti nel latte, quindi non ci siamo limitati a fare una valutazione puntuale dell'indice di congelamento, il punto di congelamento del latte, ma siamo andati anche a verificare cosa è cambiato dal punto di vista chimico del latte. E come puoi vedere, anche gli altri parametri, come il contenuto di grasso, di proteina, di lattosio e di residuo secco magro, hanno avuto delle variazioni più o meno intense con differenti trend, per esempio il grasso aumentato, mentre per quanto riguarda il residuo secco magro, che comprende proteina e lattosio, sono leggermente diminuiti, e questo vale per i nove caseifici presi in elaborazione, sono diminuiti passando dal 2016 al 2020. Sono variati anche altri parametri che prima il dottor Comino ha citato, che potrebbero andare a influenzare il punto criscopico, come il contenuto di caseina, che è andato incontro a un aumento, e questo ha favorito l'aumento dell'indice caseinico, e abbiamo rilevato anche una diminuzione, pressoché costante, del valore di urea nel latte. Mentre il valore di cellule somatiche, più o meno, è sempre stato costante, anche perché, essendo latte commercializzato, tutte le aziende devono attenersi alle richieste del pacchetto igiene, quindi del limite di cellule somatiche contenute nel latte conflitto. All'anno a fare poi un focus mensile, quindi stagionale, abbiamo messo in esame, quindi mediato, tutti i mesi dei 5 anni a disposizione. dei dati a disposizione. E come ha già accennato precedentemente il dottor Comino, ma è come è stato anche rilevato più volte a livello territoriale, nei periodi estivi, quindi giugno, luglio, agosto, abbiamo i punti di down maggiori, quindi la criscopia si sposta verso i 5,10, 5,20, con valori, quindi, più vicini allo zero, rispetto ai periodi invernale. A questo punto ci siamo andati anche a valutare gli altri parametri, e anche qui abbiamo notato una diversa variazione, a seconda dei parametri, durante le varie stagioni. Per quanto riguarda, in questo caso, il grasso e le proteine hanno più o meno un andamento simile, con punti di picchi di maggior contenuto nel periodo invernale, compreso fra novembre, gennaio e febbraio, e punti più bassi nel periodo estivo. Il lattosio, invece, ha una risposta più tardiva rispetto al grasso e le proteine, ha un picco verso aprile e maggio, mentre una fase di abbassamento drastico durante la parte post-estate, quindi settembre-ottobre, per risalire poi da novembre-dicembre. Il residuo secco-magro ha un andamento un po' mixato, perché è poi dato dal contenuto di proteine e di lattosio, e un po' miscelato dai due componenti. La caseina, nel tempo, partendo da gennaio a dicembre, rispecchia l'andamento delle proteine, e di fatti l'80% delle proteine è caseina, mentre l'indice caseinico ha una variazione leggermente differente. Quello che sembra avere un minor effetto stagionale è il contenuto di urea, che presenta quasi una media sempre abbastanza costante fra i mesi da partire da gennaio a finire a dicembre. Per quanto riguarda invece le cellule somatiche, riprendiamo un argomento che comunque è già conosciuto, che durante il periodo estivo tende ad aumentare, quindi avere dei valori molto più alti rispetto al periodo estivo, perché le vacche sono più soggette a stress, e quindi presenta un contenuto più elevato di cellule somatiche. Da quello che abbiamo ottenuto, cosa possiamo dire? Che abbiamo visto che sia a livello annuale che all'interno dell'anno, quindi a livello del cambiamento delle stagioni, c'è una variazione del punto di congelamento e degli altri parametri qualitativi del latte. Quindi il latte subisce dei cambiamenti, sia durante l'anno che tra gli anni. Questo cambiamento dei parametri chimici o chimico-fisici, quindi il contenuto di grasso, proteine e lattosio, potrebbe dare una spiegazione parziale alla variazione del punto di congelamento del latte che abbiamo visto. Tuttavia, come ha sottolineato il dottor Comino, è necessario approfondire questo argomento, perché un punto fondamentale che non è stato mai preso in considerazione in questa elaborazione è la produzione capogiorno di latte, che è andata sicuramente negli ultimi decenni sempre incontro a un aumento, e per la fisiologia che ha spiegato potrebbe andare a incidere e a dare una certa spiegazione sull'andamento del punto di congelamento del latte. Il management aziendale potrebbe avere un'influenza molto importante, dalle operazioni di mungitura all'alimentazione, alla genetica in sé, alle animali in stalla che uno ha, quindi la performance degli animali, e poi un ultimo punto in cui non è ancora stato possibile approfondire, ma che potrebbe avere un effetto molto marcato sul punto di congelamento del latte, è quello del contenuto minerale. Purtroppo con le metodiche IR, che sono quelle che ha descritto brevemente la dottoressa Beneventi, e molto bene nella presentazione precedente, sono degli ottimi strumenti, ma scendendo in particolari, quindi in questi parametri minori, hanno delle certe difficoltà andarle a rilevare, o comunque li rilevano, ma con un certo di grado di errore. Quindi per il futuro, sicuramente è necessario approfondire alcuni argomenti per capire meglio perché stiamo andando incontro a una variazione del punto di congelamento del latte. Grazie. Grazie.